Solo sette giorni e poi anche l'Abruzzo sarà per la prima volta da inizio della pandemia zona bianca. Un primo passo verso la normalità a partire dal coprifuoco che verrà abolito, dunque nessun obbligo di rientro verso le proprie abitazioni alle ore 23. Con questa ordinanza saranno diverse le attività, dalla ristorazione alle cerimonie, dalle attività ricreative fino a cinema e spettacoli che ripartiranno dopo lunghi mesi di stop. Sarà possibile organizzare feste, soprattutto quelle che si tengono dopo le cerimonie civili e religiose, sempre però garantendo la sicurezza. I tavoli dovranno essere disposti in modo tale da garantire il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi. Mentre per ora dalla circolare e ministeriale non sembra esserci riferimento specifico al Green Pass in zona bianca. Per quanto riguarda i ristoranti si potrà tornare a pranzo e cene anche all'interno, con il ristoratore che dovrà garantire sempre un numero massimo di persone ammesse all'interno, dove resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina per andare in bagno, pagare il conto, entrare e uscire dalla sala. Sarà possibile tornare ad organizzare e partecipare a congressi, sagre e fiere, dove andranno riorganizzati gli spazi per consentire l'accesso ordinato ai partecipanti. Potrà essere rilevata la temperatura e tutti i visitatori dovranno indossare la mascherina. Dal lunedì prossimo via anche alla riapertura di sale giochi scommesse, bingo e casino. Qui sarà vietato l'uso di giochi collettivi che impediscono il distanziamento interpersonale. Ripartenza anche per piscine termali e centri benessere, dove fortemente è consigliata la prenotazione, sia l'utilizzo di spogliatoie e docce, ma garantendo la distanza di almeno due metri. Mentre all'aperto bisognerà garantire almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone. Comunque anche in zona bianca resta in vigore l'obbligo di distanziamento interpersonale, con l'obiettivo di evitare gli assembramenti, così come l'uso obbligatorio della mascherina all'aperto quando non si potrà mantenere la distanza e al chiuso nei luoghi pubblici. Prevista la sanificazione nei luoghi chiusi e una corretta areazione.